Il corpo è lo spirito visibile, mentre lo spirito è lo spirito visibile. Il corpo è lo spirito visibile, quindi abbinando fra di loro si dimostra solo facendo movimento corporeo. Quindi chi vuole alzarsi a ballare si balla. Il corpo è lo spirito visibile, mentre lo spirito è lo spirito visibile. Il corpo è lo spirito visibile, mentre lo spirito è lo spirito visibile. Il corpo è lo spirito visibile, mentre lo spirito è lo spirito visibile. Il corpo è lo spirito visibile, mentre lo spirito è lo spirito visibile. il corpo è lo spirito visibile, mentre lo spirito è lo spirito visibile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.